con il volo che è collegato con noi ragazzi del volo, Piero Barone, Innazio Boschetto, Gianluca Ginobile che sono i nostri diletti nipotini perché li abbiamo tenuti a battesimo quando sono nati come gruppo e faranno un tributo ai mio Morricone proprio accompagnati da una grande boschezza sinfonica la Sinfonietta che è stata proprio fondata da Morricone. Allora ragazzi, come va? Si ricomincia finalmente? Ciao Bruno, siamo onorati anche perché è anche un segno di speranza, un messaggio di speranza della ripartenza siamo un po' tutti stufi di questa situazione sicuramente e non vediamo l'ora che si possa tornare appunto alla normalità e noi lo facciamo con questo grande evento, questo tributo al grande genio, il maestro Ennio Morricone accompagnati dal maestro Andrea Morricone e dal maestro Marcello Rota. Allora, ci fate sentire qualcosina, qualcosina? Sì, te la facciamo e ti facciamo anche una sorpresa perché stiamo facendo le prove e stiamo provando direttamente col maestro Andrea Morricone. ... ... Grazie per la visione 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 Grazie per la visione